Giornata importante oggi a Palazzo di Città Pescara con il Consiglio Comunale che dovrà ratificare la variazione di bilancio assessore per quanto riguarda le spese dell'ente per la notte dei serpenti. È una ratifica dell'autorazione di bilancio di luglio dove lo stanziamento del Comune è stato di 105.000 euro a fronte della spesa globale, ovviamente contribuita anche dalla Regione, ma che ovviamente ha avuto un ritorno importantissimo del Pescara in termini di visibilità nazionale qualcuno ha fatto riferimento anche al paragone con la notte della Taranta dove Pescara ha stravinto questa eventualmente partita mediatica quindi ben lieti ovviamente di aver stanziato e messo a disposizione questa cifra di 105.000 euro per ottenere un ritorno importante per la nostra città. Insieme a questo stanziamento sono stati stanziati delle disponibilità pregresse per obbligazioni del 2005 di un vecchio debito del Comune e lo straordinario elettorale per i dipendenti del Comune che in qualche modo abbiamo già adeguato a quelle che sono le richieste del settore del personale. Ma la vera buona notizia è che dal 1 gennaio 2025 il Comune di Pescara uscirà dal predissesto e tutto questo comporterà in maniera positiva maggiori investimenti per quanto riguarda l'amministrazione comunale. Non abbassiamo la guardia però la situazione da un anno e mezzo a questa parte ci possiamo permettere qualcosa in più fortunatamente perché andiamo pian piano a raccogliere una politica di rigore che abbiamo attuato dal 2019 e a fine anno addirittura usciremo dal predissesto e quindi avremo anche la possibilità di accendere mutui per le manutenzioni stradali di assumere personale senza dover chiedere il permesso al COSFEL che è l'organismo del governo che ci autorizza e perché no, se ci sono le condizioni potremo anche abbassare qualcosina delle tasse per dare anche un segnale alla cittadinanza.